Una truffa messa in atto in poco più di 5 minuti, giusto il tempo di arraffare soldi e gioielli, consegnare un pacco e andare via. Vittima della truffa una pensionata, alla quale un giovane, fingendo di consegnarle un computer, le ha invece rifilato una bilancia. Massavolta i carabinieri hanno arrestato il truffatore. A finire in manette è stato Francesco Carillo, 28enne di Napoli. Il piano era stato studiato nei minimi particolari e con le stesse modalità. A casa dell'anziana 82enne arriva una telefonata e una complice del truffatore, che fingendo di essere la figlia, annuncia alla donna che di lì a poco sarebbe arrivato un corriere per consegnarle un computer. Ma la truffatrice, al telefono che finge di essere la figlia della vittima, chiede all'anziana di anticipare i soldi. Pochi minuti e puntuale bussano alla porta della 82enne. La truffa riesce senza intoppi. Il truffatore si fa pagare il pacco con 300 euro in contanti, ma non bastano, occorrono 3.000 euro. Visto che la vittima non ha altri soldi, il giovane la convince a pagare con oggetti di valore. La signora così consegna nelle mani del truffatore preziosi per 3.000 euro. Francesco Carillo consegna la scatola e sparisce. La vittima, poco dopo, apre il pacco e scopre che lo stesso non contiene un computer, ma una bilancia. Immediatamente allerta i carabinieri e partano le ricerche. Poco dopo, i militari dell'arma di Giuliano individuano e bloccano l'uomo nei pressi di un bar di un'area di servizio. A pochi metri c'è la sua auto, una Lancia Ypsilon, già notata in zona. Il 28enne viene perquisito e trovato in possesso dei soldi e dei preziosi truffati. Il tutto viene restituito all'anziana vittima, mentre l'uomo viene rinchiuso nel carcere ripoggio reale. Le indagini proseguono. Le forze dell'ordine vogliono identificare l'accomplice dell'uomo e capire se i due abbiano messo a segno altre truffe con le stesse modalità.